Un'Europa, Roma, il quarto congresso del sindacato europeo del terziario dei servizi, Changing Europe Together, leitmotiv della conference. L'assise è preceduta dalla quinta conferenza delle donne. Raineri, ruolo del sindacato, a tutti i livelli, contrattare non solo retribuzione ma anche benessere sociale. Naspi e abuso dei voucher penalizzati i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale. I sindacati chiedono l'attivazione di un tavolo interministeriale sulle problematiche del comparto turistico. Integrativo Carrefour si intensifica il confronto con il gruppo francese della grande distribuzione organizzata, accolte le richieste dei sindacati sul mantenimento dei livelli occupazionale e del perimetro aziendale, sulla gestione dei processi di crisi a livello decentrato. NH Hotels, la multinazionale spagnola, annuncia una nuova procedura di mobilità per 98 addetti. Sale a quota 550 il numero degli esuberi dichiarati in Italia dalla catena alberghiera negli ultimi cinque anni. Vanelli, licenziamenti in barba al bilancio positivo 2015 e finalizzati unicamente alla riduzione del costo del lavoro. Si reinvestino gli utili nel rilancio commerciale. Unicop Tirreno, la cooperativa di consumo, esclude il Basso Lazio dalla nuova rete di vendita distribuzione Lazio-Umbria. I sindacati proclamano due giornate di sciopero nei cinque negozi prossimi alla cessione e un'ora di astensione dal lavoro su tutta la rete distributiva. Formazione Fisaskat al Centro Studi di Firenze prende il via la settima edizione del corso lungo per 30 quadri ed operatori della categoria Cislina. La storia e i valori della Cisl, della Fisaskat e lo scenario di riferimento, il tema del primo modulo formativo. Con la nostra rubrica dai territori faremo tappa in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Bentornati al TG Lab, Changing Europe Together, il leitmotiv del IV Congresso del Sindacato Europeo del Terziario e dei Servizi Un'Europa che rappresenta oltre 7 milioni di lavoratori. Il servizio di Paola Mele. Cambiare insieme l'Europa è possibile per il Sindacato Europeo del Terziario e dei Servizi che a Roma ha celebrato il IV Congresso a 16 anni dalla sua Costituzione. L'Assisi ha registrato la partecipazione di oltre 900 delegati che hanno preso parte al dibattito sul ruolo dei sindacati e della contrattazione e sulla capacità di favorire la qualità del lavoro e la crescita delle retribuzioni in un mercato del lavoro in rapida evoluzione. Sharing economy e crowdworking sono ormai realtà in molti paesi europei e nel resto del mondo come emerso dalla ricerca presentata da Unione Europa in occasione della conference. È il segretario generale Oliver Rettig, rieletto alla guida del Sindacato Europeo per i prossimi 4 anni ad invitare i sindacati affiliati presenti all'Assise a sfidare il cambiamento ed essere entusiasti, carichi e persino euforici e a definire una strategia lungimirante che assicuri che i servizi europei e la loro forza lavoro siano riconosciuti come la spina dorsale del progresso economico e sociale in Europa. Un obiettivo da raggiungere attraverso un lavoro comunitario di squadra ha sottolineato Mario Petitto, vicepresidente di Unione Europa e segretario generale della SLP, la Federazione dei Postali della CISL. Un impegno che dovrà essere volto anche ad una vera partecipazione dei giovani al mercato del lavoro e dalla vita del sindacato e dalla piena integrazione dei rifugiati e a valutare con attenzione l'impatto positivo dell'immigrazione sullo sviluppo economico, ha evidenziato Philip Jennings, segretario generale di Uniglobal Union, il sindacato internazionale del terziario dei servizi. È il segretario generale della FIST CISL, Pierangelo Raineri, eletto componente del Comitato Esecutivo di Unione Europa, a sottolineare che il sindacato a tutti i livelli dovrà essere impegnato a contrattare non solo le retribuzioni ma anche benessere sociale, non più solo lavoro dunque ma welfare in grado di coprire i crescenti bisogni assistenziali e previdenziali attraverso la creazione di un sistema di long-term care, ha suggerito Raineri, obiettivo da raggiungere attraverso la definizione di accordi con aziende che prevedano di destinare parte della retribuzione prodotta in età lavorativa a tutela delle proprie necessità. L'assise congressuale è stata preceduta dalla quinta conferenza delle donne sul tema Le donne al centro del cambiamento che ha delineato l'orientamento di Unione Europa nei prossimi quattro anni per favorire la reale parità di genere e contrastare il crescente divario retributivo tra uomini e donne. Includere le donne nei sindacati e farle partecipi del cambiamento è la garanzia di un'Europa più giusta, più inclusiva e più sociale, ha dichiarato il segretario organizzativo della FISASCAT Rosetta Raso intervenendo ai lavori. La contrattazione può fare molto anche per contrastare la violenza di genere e per favorire l'occupazione femminile e ha concluso la sindacalista. Il tema principale di questa conferenza è sicuramente il ruolo dei lavoratori dei settori dei servizi in una società che cambia. La società del settore globale dei servizi sta cambiando molto rapidamente. L'avvento dell'era digitale cambierà molto molto il modo di lavorare, cambierà l'occupazione, creerà anche crisi occupazionali, creerà anche nuove opportunità di lavoro che si contrapporranno a questa crisi che oramai dura da diversi anni. Noi crediamo che un sindacato forte nel settore dei servizi sia necessario soprattutto per difendere i diritti delle persone che operano attraverso la loro professionalità proprio nel terziario, nel turismo e nei servizi. Il ruolo di FIS, la federazione del sindacato dei servizi, vuole proprio accompagnare questo processo di cambiamento per tutelare le persone. Più tutele, più professionalità, più lavoro, più crescita occupazionale per i lavoratori e le lavoratrici del settore dei servizi. Uni Global Union è il futuro. Viviamo in una economia globale con un negozio globale con un negozio globale, un negozio globale, un negozio globale, un negozio globale. È buono essere forti nel vostro paese, ma noi come unione trade devono essere forti nel mondo. Il mondo del futuro sarà più collegato, i negozi saranno più collegati, i governi sono più collegati. e senza noi, in Europa, la Commissione europea e i membri, hanno bisogno di rispettare i diretti di lavoratori che in Europa è importante. E numero due è un cambiamento tecnologico. Ci vedremo drammatiche cambiamenti nel mondo del lavoro. Trasera digitalizzazione, tranne nuove formi di lavoro, e noi dobbiamo assicurare che i giusti di lavoratori che ci sono stati utilizzati saranno anche i dati del futuro. Il futuro del lavoro deve funzionare per le persone lavorate. Se funziona solo per la corporea con la deregolazione, senza lavorare di lavorare, senza lavorare, senza lavorare, senza lavorare, senza lavorare, senza lavorare, senza protezione sociale, allora non è il mondo che vogliamo. Sono circa 300.000 i lavoratori stagionali del comparto turistico e del settore termale fortemente penalizzati dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego operativa dal 1 gennaio 2016. L'allarme è stato rilanciato dai sindacati di categoria Fisaskat, Filcams e Wiltux che in una nota trasmessa ai dicasteri del lavoro, del turismo e dello sviluppo economico hanno sollecitato l'attivazione di un tavolo interministeriale con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati sulle problematiche di settori a cominciare dall'abuso dei voucher finalizzato ad approntare politiche di interventi mirati al sostegno della stagionalità nel turismo, fenomeno strutturale del comparto cardine dell'economia italiana. Torniamo ad occuparci delle trattative sul nuovo integrativo Carrefour. Si intensifica il confronto con il gruppo francese della grande distribuzione organizzata che ha confermato ai sindacati di categoria Fisaskat, Filcams e Wiltux la disponibilità a siglare un accordo di proroga della validità del contratto vigente e benefici dei trattamenti integrativi in esso previsti a fronte del congelamento del gettone legato alla prestazione domenicale. Accolta la richiesta dei sindacati di demandare il livello territoriale di per la gestione degli eventuali processi di crisi, la disponibilità aziendale anche sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, sul mantenimento del perimetro aziendale e sulla gestione diretta dei punti vendita. Positivo il commento della Fisaskat, abbiamo posto le basi per un'intesa condivisa che consentirà di prorogare il contratto integrativo con un nuovo ruolo affidato a livello decentrato nella gestione delle criticità dichiarato il segretario nazionale della categoria Cislina Ferruccio Fiorotto. Il confronto è aggiornato al 29 marzo. Non si arresta il processo di riorganizzazione avviato dalla catena alberghiera spagnola NH Hotels presente in Italia con 27 strutture ed oltre 1000 dipendenti. Sono complessivamente 98 i lavoratori coinvolti dall'ennesima procedura di licenziamento collettivo. Roma e Palermo sono le piazze più colpite con 31 esuberi all'NH Midas nella capitale e 25 posti di lavoro che andranno persi all'NH Palermo in seguito alla cessazione di attività delle due strutture escluse dal processo di rebranding avviato dalla multinazionale. Gli altri 42 esuberi riguardano diverse figure professionali delle strutture alberghiere presenti a Bologna, Venezia, Roma, Catania, Genova, Milano e Napoli, la Spezia e Torino e delle sedi amministrative di Milano e Valdagno. La ristrutturazione avviata da NH a dispetto di un risultato positivo di chiusura del 2015 purtroppo cela l'esternalizzazione dei servizi alberghieri operazione finalizzata unicamente alla riduzione del costo del lavoro come la stessa NH dichiara senza remore nella procedura di mobilità stigmatizzato Elena Maria Vanelli della segreteria sindacale Fisaskat che ha infine esortato le istituzioni e il governo ad attuare politiche strutturali di sostegno al comparto turistico a tutti gli effetti possibile volano della ripresa economica ed occupazionale italiana Unicop e Tirreno una delle più grandi cooperative di consumatori italiane rafforza l'alleanza con le cooperative della grande distribuzione del distretto adriatico attualmente riunite in Cop Alleanza 3.0 escludendo dalla nuova rete vendita distribuzione Lazio-Umbria ai negozi del Basso Lazio secondo il piano di Unicop e Tirreno i punti vendita di Formia Cisterna di Latina Fiuggi Frosinone e Terracina dovrebbero essere ceduti in franchising a piccoli imprenditori locali posizione ritenuta inaccettabile per le federazioni sindacali di categoria Fisaskat Filcams e Wiltux che in questi ultimi anni hanno sempre riespinto i tentativi delle cooperative di cedere parte della rete vendita ad imprenditori privati le tre sigle che hanno invitato la direzione aziendale a ricercare soluzioni alternative all'accessione di attività hanno stigmatizzato anche sulla mancanza di comunicazione sul numero dei lavoratori coinvolti dall'eventuale trasferimento i sindacati hanno proclamato due giornate di sciopero nei cinque negozi prossimi alla cessione e un'ora di astensione dal lavoro in tutti i negozi della rete vendita da programmare a livello decentrato la storia e i valori della CISL della Fisaskat e lo scenario di riferimento è il tema del primo modulo della settima edizione del corso lungo di formazione promosso dalla Fisaskat al centro studi CISL di Firenze circa 30 delegati ed operatori della categoria sindacale CISLina provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla settimana di aggiornamento sulla storia della CISL e della Fisaskat sulle materie politico-sindacali e sulle principali dinamiche economiche per la nostra rubrica tra territori prima tappa in Veneto dove la Fisaskat CISL regionale ha promosso un corso di formazione riservato ai componenti del comitato esecutivo e agli operatori della categoria e delle strutture territoriali sui temi della contrattazione decentrata della conciliazione vita-lavoro e sulle novità introdotte con la riforma del lavoro e con il varo dei decreti attuativi del Jobs Act tra i relatori Marco Lai docente dell'Università di Firenze oltre ad Elena Maria Vanelli e Mirko Ceotto della segreteria sindacale Fisaskat è necessario aggiornare le competenze in un periodo dove la crisi ha procurato molte difficoltà nel mondo del lavoro e il governo ha introdotto nuove riforme anche per rendere più efficaci e migliori le relazioni sindacali sul territorio ha dichiarato Maurizio Arizzo segretario generale della Fisaskat Cisle Veneto Tappa in Toscana a Lucca le organizzazioni sindacali di categoria Fisaskat Cisle FPCGL e Will FPL hanno confermato lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle case di riposo del comune in seguito alla dichiarata volontà comunale di concludere le procedure di gara e di assegnare la concessione del servizio alla cooperativa sociale Agora di Arezzo le tre sigle hanno nel frattempo trasmesso la richiesta di un tavolo di conciliazione obbligatoria alla prefettura di Lucca ed hanno annunciato la messa in campo di nuove iniziative di mobilitazione e di sciopero rimaniamo a Lucca dove i sindacati di categoria Fisaskat Filcams e Will Tux hanno sospeso lo stato di agitazione dei dipendenti della Pluriservizi la società partecipata del comune di Camaiore sottoposti a carichi di lavoro eccessivi il dietro fronte in seguito alle rassicurazioni fornite dal comune di Camaiore che ha dichiarato la volontà di riorganizzare il personale anche a seguito della crescita dei compiti e delle funzioni svolte dall'azienda una proposta di ristrutturazione sarà sottoposta alle organizzazioni sindacali entro i primi dieci giorni di aprile tappa in Emilia Romagna a Ferrara le segreterie territoriali Fisaskat Filcams e Will Tux hanno proclamato un pacchetto di cinque scioperi nelle giornate di Pasqua lunedì dell'Angelo la liberazione del 25 aprile la festa dei lavoratori del primo maggio e la festa della Repubblica del 2 giugno l'assenzione coinvolgerà tutti i lavoratori e le lavoratrici in tutto il territorio della provincia di Ferrara inquadrati nei contratti collettivi nazionali dei settori terziari distribuzione e servizi sottoscritti con Conf Commercio Conf Esercenti e grande distribuzione la protesta contro la liberalizzazione selvaggia del commercio introdotta dal governo Monti e la mancanza di una normativa che ponga dei limiti di legge sulle aperture commerciali dei negozi tappa in Basilicata a Maratea la Fisaskat Cisle territoriale ha denunciato la difficile situazione delle dieci addette della mensa scolastica dipendenti della Mama Catering senza stipendio e licenziate a loro insaputa del 15 febbraio scorso la categoria Cislina in una lettera indirizzata alle aziende interessate al comune di Maratea e agli organi competenti ha chiesto chiarimenti sulla faccenda il segretario della Fisaskat Cisle Basilicata Aurora Blanca ha in particolare stigmatizzato sulla mancanza di informazione sull'eventuale trasferimento delle lavoratrici ad un'altra ditta che andava comunicato alle dirette interessate anche per definire la questione del trattamento di fine rapporto in Sardegna a Porto Cervo la Fisaskat Cisle di Olbia Tempio insieme alla Filcam CGL territoriale ha siglato con la società Starwood gestore per conto del Qatar degli alberghi di lusso della Costa Smeralda un accordo sul premio di produttività il bonus da un minimo di 593 euro a un massimo di 683 euro verrà assegnato ai 900 lavoratori per il 92% Sardi con la puzza paga del mese di marzo soddisfazione in casa Cisle il risultato del premio di produzione è merito dell'alta professionalità dei lavoratori della Starwood che attraverso l'alta formazione ha migliorato la qualità del servizio ha dichiarato Alberto Farina segretario generale aggiunto della Cisle Gallura il premio ha aumentato di circa 80 euro rispetto a quello dell'anno scorso ha dichiarato Eleonora Careddu segretario generale della Fisaska Cisle di Olbia è anche frutto del rapporto serio e corretto instaurato in questi anni tra il gruppo Starwood e le organizzazioni sindacali chiudiamo con due notizie dalla Sicilia a Palermo la Fisaska Cisle Palermo Trapani ha denunciato la grave crisi che ha investito la Sisa la più grande piattaforma della distribuzione presente con numerosi punti vendita in Sicilia occidentale sono complessivamente 113 su 140 lavoratori della Cedisisa coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo nonostante le gravi criticità esposte dalla società si possono e si devono trovare strade alternative ai licenziamenti del personale anche attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali che stavolta possano veramente sostenere ha dichiarato Mimma Calabro segretario generale Fisaskat Cisle Palermo Trapani nel corso dell'esame congiunto pertanto tutto il nostro impegno mirerà a trovare ogni soluzione possibile affinché vengano tutelati tutti i 140 livelli occupazionali con l'auspicio che gli sforzi di tutte le parti coinvolte ognuno per propria competenza mirino al rilancio di una così importante struttura anche attraverso l'ingresso di nuovi associati e affiliati rimaniamo a Palermo dove le federazioni sindacali di categoria Fisaskat Filcans Wiltux hanno indetto lo sciopero dei 50 operai seppellitori dei tre cimiteri di Palermo ex GESIP alle dipendenze della società Reset da 13 anni in servizio senza riconoscimento della qualifica le sigle sindacali che hanno espresso condivisione sulla proposta dell'amministrazione comunale di aumentare di due ore a settimana l'orario di lavoro hanno sollecitato l'allineamento delle retribuzioni alle reali mansioni svolte da lavoratori e adeguate a livello contrattuale di riferimento ci salutiamo e vi ricordiamo che è possibile consultare il TG Lab anche sul TGR Lab Facebook e Youtube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at Fisaskat per segnalazioni e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab chiocciola fisaskat punto it grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana la Fisaskat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario turismo e servizi garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti la Fisaskat CISL attraverso la contrattazione sostiene la bilateralità cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa la previdenza complementare e la formazione professionale continua all'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario turismo e servizi la Fisaskat insieme alla Felsa CISL ha dato vita alla FIST la federazione italiana dei sindacati del terziario per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti autonomi atipici e somministrati la Fisaskat la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela di tutela di tutela di tutela Grazie a tutti